Salve a tutti amici e amiche del Monster High Oggi vorrei pubblicizzare Simonetta Masi Il suo canale è molto molto bello Ovviamente con dei video molto molto belli Mi raccomando iscrivetevi al suo canale E mettete mi piace e commentate ai suoi video E mi raccomando qui sotto scrivete chi altro vuole essere pubblicizzato E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao